Lasciati i camper all'area di sosta Matera, la navetta ci porta a vedere uno tra i più suggestivi presepi viventi d'Italia. Con i suoi 4 chilometri di percorso si estende dal sasso barisano a quello caveuso attraversando tutto il centro storico ed è messo in piedi da oltre 200 figuranti ed attori professionisti. Buonasera e benvenuti alla tredicesima edizione del presepe vivente nei sassi di Matera. Il titolo scelto quest'anno è pane e pace. Questa è la prima scena del presepe, loro sono le Vestali. Benevola Dea Vesta, tu che leggi i nostri pensieri ed ascolti i nostri cuori, mantieni viva la speranza di chi suda per un futuro migliore. Dio, parati ad onore, 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 onoris legatule giusti. Regioni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricostruire i luoghi che ho visto, così da permettere ancora di più alla mia gente di potersi preparare a questo avvento. Come posso dirti di no? Trovatemi tutti i bambini di un anno. Anzi no. Trovatemi tutti i bambini fino a due anni. Uccidete tutti! 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 Musica Musica Pesce fresco Comprate il nostro pesce Musica 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 Abbiamo ricevuto un dono Tutti Prima o poi Riceveranno un dono Tutti E' vero Maria abbiamo Ricevuto un dono Tutti Ed io che pensavo che il mio dono Era solo la speranza Di ricevere un dono E invece non era così Maria Il mio dono sei stata tu E' con te ora questa vita Che ci dona altra vita Il dono più grande che avete portato con voi E' voi stessi E' la vostra adorazione Adorare E' annullarsi per amore il dono Più grande Donare la propria vita per gli altri Ed io so Come si fa Chierebbe 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 Sperare